Vorrei parlarvi, con il mio breve intervento, di un'area che sta tra gli Hawaii e la California e che per molti è diventato il settimo continente. Quest'area è estesa per 3,4 milioni di chilometri quadrati e raggiungerebbe spessori di circa 30 metri in certe aree. La chiamano la zuppa di plastica o anche il continente di plastica, o più realisticamente questa è la più grande discarica galleggiante del mondo. È uno dei regalini che il nostro sistema produttivo ci ha fatto per ricordarci delle nostre abitudini di uso e consumo irresponsabile, connessi anche al principio della crescita infinita e alla pessima gestione dei prodotti di scarto del sistema produttivo. Eppure ci pare che il Governo non vada esattamente in questa direzione, neanche con la nuova Tari. Tra l'altro ricordo che da pochi giorni è scaduto il pagamento della Tares, una stangata in media da 305 euro a famiglia, con un aumento medio del 35,4% rispetto alle precedenti tasse, con punte fino al 140%. Gli attivisti della mia città, che è Vercelli, hanno denunciato al Presidente Letta questi aumenti con una lettera a lui inderezzata. Eppure poco si muove nell'ottica di un ripensamento del nostro modo di produrre. Poco o nulla si fa per il primo dei punti della gerarchia dei rifiuti, la riduzione dei rifiuti. Noi del Movimento 5 Stelle stiamo mettendo su carta il mondo che vorremmo lasciare ai nostri figli, con le nostre proposte di legge. Per questo stiamo modificando il test unico ambientale e speriamo che voi ci aiuterete, o almeno ci consentirete, di provare a cambiare questo mondo. Grazie.